Come possiamo notare la fiandra a quadretti viene realizzata con un intreccio di fili e trami. Vedete che il tipo di tessuto non è stampato ma il disegno viene creato intrecciando fili e trami a telaio. Come possiamo vedere possiamo realizzare anche ritratti con questo sistema Jacquard oppure possiamo realizzare benissimo anche paesaggi molto complessi ad esempio come questo a scena di caccia sempre come si nota intrecciando fili e trami come si nota bene in questo particolare qua. In questo caso è una trama bianca color dito nero. Altro esempio di realizzazione tipo fianda possiamo benissimo realizzare anche i calendari ad esempio questo con l'immagine del Duomo di Milano rivista in modo moderno. Anche qui possiamo vedere benissimo che l'intreccio, la realizzazione del disegno viene fatta con l'intreccio di fili e trami.